Quello che ci occorre per realizzare questa borsa è un inserto composto da una vaschetta per la base più i nostri manici abbinati. Andremo a lavorarla col cordino Swan colore ruggine, io ho scelto quello, voi potrete scegliere quello che più vi piace, è un uncinetto numero 3 con cui andremo a lavorare tutta la nostra borsa. Quindi questo è quello che ci occorre e vi ricordo che come sempre lo potete acquistare sul sito www.mercediamare.it. Allora prendiamo la nostra vaschetta come prima cosa, facciamo il cappio al nostro uncinetto e come potete vedere i fori della vaschetta sono molto ravvicinati tra di loro quindi proprio per questo andremo a lavorare un punto solo per ogni foro perché sono già veramente molto 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 vicini vedete quindi non occorre farne due per ogni foro, andremo a lavorare solo una maglia bassa per ogni punto. Quindi io mi inserisco qua dove c'è il laterale e faccio una maglia bassissima, una maglia bassa in questo modo. Dopodiché vado nel foro successivo, inserisco l'uncinetto, estrago il filo e faccio una maglia bassa. Proseguo così per tutti i fori e per questo primo giro del nostro inserto. Vedete quindi mi inserisco nel foro, prendo il filo, esco e faccio una maglia bassa. Una volta terminato anche tutto questo giro iniziamo con la lavorazione vera e propria ovvero dobbiamo andare a lavorare due maglie basse nello stesso punto quindi una nello stesso punto vado a lavorare né un'altra. Saltiamo un punto, andiamo in quello successivo quindi non andrò a lavorare qui ma nel punto dopo e vado a fare altre due maglie basse nello stesso punto e così via. Quindi adesso salto un punto vado in quello successivo e lavoro due maglie basse nello stesso punto. Di nuovo salto questo vado in quello dopo e lavoro due maglie basse e devo proseguire così per tutto questo primo giro. Quindi salto guardate ho terminato tutto questo primo giro e devo dire che è un punto molto semplice ma veramente molto carino e adesso vi faccio vedere come proseguire nel giro seguente. Allora dobbiamo lavorare sempre come adesso quindi due maglie basse nello stesso punto e poi lasciamo un punto vuoto. Allora adesso i punti vuoti che lasciamo sono le maglie basse su cui abbiamo lavorato finora e dobbiamo andare a lavorare le nostre maglie basse invece dove prima avevamo il buco. Quindi adesso il buchino esattamente ce l'avrei qua e della maglia saltata del giro precedente e su quella maglia saltata vado a lavorare le mie due maglie basse nello stesso punto. Dopodiché salto le maglie basse del giro precedente e vado di nuovo a inserirmi qui che c'era invece il punto che prima avevo saltato. Vedete? In questo modo. Adesso salto qui dove ci sono le maglie basse e vado dove avevo saltato il punto. vedete? Adesso di nuovo salto le mie maglie basse e vado qui dove nel giro precedente ho saltato il punto e ne lavoro sempre due. E questo è il motivo che si viene a formare che è un motivo veramente molto grazioso. Quindi adesso di nuovo salto vado qui dove c'era il buchino di prima e devo proseguire così non solo per questo giro ma per tutti i giri a seguire fino a raggiungere l'altezza desiderata della mia borsa. Ok? Quindi adesso salto qui, vado qua e lavoro le mie due maglie basse e devo procedere appunto così per tutto questo giro e per tutti i successivi. Allora guardate ho terminato adesso di realizzare tutta la parte del corpo borsa e ho lavorato 22 centimetri a questo punto e adesso vi faccio vedere come andare ad attaccare i manici, a cucirli precisamente. Allora per prima cosa dovete decidere esattamente la posizione di dove volete mettere i vostri manici, quindi la distanza, la centratura eccetera. Una volta che avete deciso questo dovete prendere un mago tira fettuccia con del cordoncino e andiamo ad attaccare i nostri manici io qui ho già fissato una parte e adesso vi faccio vedere come fissare l'altra. Quindi abbiamo il nostro filo, abbiamo fatto il nodino al fondo ci inseriamo all'interno della borsa più o meno in corrispondenza dove vorremmo andare ad attaccare il nostro manico in questo modo per fissare il nodo in modo che non scappi più. Dopodiché andiamo a posizionare qui esattamente dove lo vogliamo ok io lo voglio più o meno così da all'interno della borsa esco con l'ago e passo attraverso il primo foro esco aspettate che mi sono incastrata colpa mia allora una volta che ho posizionato qui con l'ago esco in prossimità del foro del manico e faccio passare il filo a questo punto rientro appassando nell'altro foro così vedete e da sotto esco e tiro il filo voilà adesso questo procedimento dobbiamo ripeterlo per almeno altre due volte perché solo un filo solo passato non non tiene abbastanza non è abbastanza sicuro quindi adesso con l'ago di nuovo esco dal foro qua in basso ritiro il filo e rientro qua in alto e ho fatto passare il filo due volte e ripeto lo stesso procedimento ancora una volta per essere sicuri che tenga bene quindi di nuovo esco qua in prossimità del foro voilà e ripasso in questo modo adesso possiamo andare a fissare il filo da dietro e tagliare la rimanenza ed ecco che abbiamo attaccato un manico e voi dovete ripetere la stessa cosa anche per l'altra parte che io avevo già fatto e per il manico nella parte opposta che però dovete mi raccomando misurare che venga alla stessa distanza di quello che avete già attaccato come decorazione per la nostra borsa ho deciso di realizzare delle foglie all'uncinetto sempre una con lo stesso colore con cui abbiamo lavorato la borsa e poi voglio farne due di questo colore una l'ho già fatta e adesso l'altra la vedo insieme a voi per poi andarle a disporre e a decorare la nostra borsa in modo che abbia un tocco un po' più autunnale e anche un po' più originale quindi adesso vediamo insieme appunto come realizzare queste foglie questo che sto utilizzando a fare le foglie più chiare è il cordoncino Swan colore beige allora per prima cosa dobbiamo avviare 13 catenelle più una per girare quindi 14 in totale voilà adesso andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella sottostante abbiamo lavorato anche una maglia bassa nell'ultima maglia adesso in quest'ultima maglia qui dobbiamo andare a lavorare altre 6 maglie basse realizzate tutte e 6 le nostre maglie nello stesso punto e riprendiamo andare a lavorare in filo le nostre maglie basse per le catenelle che ci troviamo qua qua una per ogni catenella appunto che ci troviamo e arriviamo fino a 3 dalla fine le ultime 3 quindi 1 2 e 3 queste 3 dalla fine quindi da qui in poi non le lavoriamo più quindi vedete 1 2 3 queste non le lavoro più mi fermo qui adesso facciamo una catenella e voltiamo il lavoro e dobbiamo andare a lavorare le maglie così come si presentano fino ad arrivare dall'altro lato in corrispondenza di questa maglia quindi sempre vedete adesso incomincio a lavorare le mie maglie basse sono arrivata qua vedete che qui abbiamo il punto centrale della curva vedete che qui così abbiamo il punto centrale della curva che è questo quindi abbiamo uno prima e uno dopo in quello prima e quello dopo centrale alla curva dobbiamo andare a fare un aumento quindi adesso siamo al punto prima di quello centrale e vado a lavorare 2 maglie basse in questo punto poi c'è il punto centrale e lavoro una sola maglia bassa così adesso abbiamo il punto dopo e di nuovo andiamo a fare un aumento lavoriamo quindi 2 maglie nello stesso punto una vedete nello stesso punto e lavoro la seconda adesso proseguiamo a lavorare le nostre maglie basse così come si presentano fino a di nuovo arrivare a 3 dalla fine ovvero questa altezza una volta essere arrivati qui in corrispondenza quindi vedete dell'altro lato facciamo una catenella di nuovo voltiamo il lavoro e riprendiamo a lavorare le nostre maglie basse così come si presentano fino ad arrivare alla curva dove faremo di nuovo gli aumenti vedete questo è di nuovo il punto centrale quindi io vado di nuovo a fare un aumento il punto prima e un aumento il punto dopo quindi qui dove siamo arrivati adesso andiamo a fare il primo aumento dopo di che lavoriamo una maglia singola e il punto successivo andiamo di nuovo a lavorare due maglie nello stesso punto in questo modo riprendiamo a lavorare le nostre maglie basse e anche stavolta ci dobbiamo fermare 3 punti prima di arrivare alla fine del giro quindi ci fermiamo qui adesso facciamo una catenella voltiamo il lavoro e ripetiamo lo stesso procedimento di ritorno quindi una maglia bassa per ogni maglia successiva quando arriviamo qui nella curva facciamo gli aumenti attorno al punto centrale e quando arriviamo da questo lato ci fermiamo 3 punti prima in questa corrispondenza arrivati a questo punto facciamo di nuovo una catenella voltiamo il lavoro e riprendiamo a lavorare le maglie nello stesso modo quindi di nuovo una maglia bassa per ogni maglia sottostante arrivati qui il punto centrale è questo andiamo a fare un aumento prima del punto centrale il punto centrale lo lavoriamo singolo quindi una maglia bassa sola il punto dopo lo facciamo di nuovo con un aumento quindi andiamo a lavorare due maglie nello stesso punto e dopodiché riprendiamo a lavorare le nostre maglie basse una per ogni punto fino ad arrivare di nuovo alle 3 prima della fine ora voilà adesso dobbiamo fare ancora un giro e mezzo ovvero una una facciamo una catenella voltiamo il lavoro ripetiamo lo stesso procedimento quindi un punto basso per ogni punto sottostante qui andiamo a fare di nuovo gli aumenti nella curva andiamo avanti a lavorare le nostre maglie basse fino a di nuovo arrivare a 3 dalla fine in corrispondenza all'altro lato arrivati a questo punto come vi accennavo prima dobbiamo solo più fare mezzo giro ovvero una catenella, voltiamo il lavoro iniziamo a lavorare le nostre maglie basse ma arriviamo solo fino a metà ovvero qui così a questo punto andiamo a perderci facendo una maglia bassissima in questo modo per chiudere e terminare il lavoro ed ecco che abbiamo realizzato la nostra foglia io andrò ad utilizzarne come vi dicevo prima 3 una dello stesso colore con cui ho lavorato la mia borsa e due di quello più chiaro e andrò poi a montarle e a disporle sulla borsa andandola a cucire e adesso vi farò poi vedere il risultato finale